Tra alleanza e profezia, famiglia e misericordia è il tema della tavola rotonda che si è tenuta oggi nei locali dell'Istituto Sor Teresa Valse di Macchitella. L'iniziativa rientra nei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Ha relazionato Don Nallino di Dio, missionario della misericordia, il presidente di AGESC, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Maria Grazia Presti. Il nostro obiettivo principale è riallacciare i rapporti famiglia, scuola, genitori, bambini e scuola, insegnanti, direttrice. Proprio a tal proposito, approfittando dell'anno della misericordia della famiglia, abbiamo creato questo evento dove avremo Don Nallino di Dio come relatore, in quanto essendo stato eletto dal Papa e missionario della misericordia, chi meglio di lui può creare questo anello di aggancio tra famiglia, misericordia, alleanza tra le due cose. Durante l'iniziativa di oggi è stato inaugurato anche un centro d'ascolto che si propone come luogo gratuito e riservato dove poter trovare accoglienza e sostegno. Finalmente abbiamo avuto la disponibilità di alcuni professionisti che hanno dato la loro disponibilità gratuita perché l'AGESC è un'associazione che svolge il tutto a titolo gratuito dove prenderanno i dovuti provvedimenti e le dovute strade da seguire per le persone che hanno bisogno delle diverse figure che saranno gli avvocati, assistenti sociali, pedagogisti, psicologi, un po' di tutto ciò che serve al momento per i ragazzi della scuola. Ai nostri microfoni il suo Enza Boscarello, direttrice dell'istituto. Noi nella formazione delle famiglie e dei genitori vogliamo dare proprio questa impronta, questa logica del perdono, della comprensione, della misericordia, della collaborazione, della pazienza che fa della famiglia un prodigio. Il sindaco Domenico Messinese Il mondo in cui viviamo è un mondo molto complesso dove di fatto si stanno perdendo i valori. Questi sono dei baluardi dove ancora i valori cercano di avere un senso e cercano di essere trasmessi in modo corretto che sono quelle regole non scritte a volte che ci consentono a vivere tutti quanti sicuramente meglio e di avere quella unità che una collettività deve avere. Quindi quando ci sono delle azioni che servono a creare uno spirito comune, quando si riesce a creare finalmente un punto di coesione, il comune non è che può essere presente.